Comunque con immenso piacere che vi faccio vedere ufficialmente il mio nuovo costume TADAAA Si comunque qua dobbiamo migliorare la base e fare qualcosa di più carino Tutti questi trofei hanno bisogno di una stanza Ho un'idea bestiale Fida ti faccio una cosa bellissima Eee bellina Un albero Allora questo è il risultato finale Credo sia abbastanza carino Prepariamo l'arena per Skeletron The Blood Moon Oddio No Dai lo evoco 3, 2, 1, via Oh cavolo Bello ci sono i mob della Blah, 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 blah Aia Perché sta con le braccia in alto? Tipo come se stesse esultando di continuo Yeee sono Skeletron Ok scherzavo Scherzavo Si vabbè però dai Ma come faccio? Ho lo schermo completamente pieno di proiettili Basta sta Blood Moon Come devo fare io? Ma non riesco a spawnare Non posso andare via Vale Quanta gente E' spawnato il tizio? No Allora dobbiamo aspettare una mattina Come fai a dormire col palloncino in orizzontale? E' impossibile Dai Che lentezza Vado a prendermi qualche sgano Ah vi volevo dire Mentre Caki non c'è Che Terraria vuole a Minecraft Giuro che è vero Mi sono preso del latte con i cereali Oh no Che buone 3, 2, 1, via Ok Si è arrabbiato Si è arrabbiato Adesso è Si Che bel gioco Preparvi che tira Occhio Ok No No perché ho saltato Era tutto No Ma non si può schivare No No Non ho saltato lo spawn point Sei un pesce Sei un pesce Sei un pesce Perché abbiamo iniziato sta serie? Perché? Dai torniamo a letto Andiamo a fare una nanna Dai su Porco Later Beviamo tutte queste cosine Via Aia Ma Madonna Allora ragazzi Per questioni di tempo Ci chiviamo la Cosmo Light Non mi rompete le scatole Perché così escono i video più in fretta E quindi sono meglio per voi Anche se in realtà non mi guarda nessuno Quindi ciao No Sei sicuro che non ci sono armi più forte? No Non è una cosa che dipende dall'equipaggiamento Dobbiamo essere noi più bravi È un boss difficile Allora concentratevi No Davvero No Ok Dai Vale Dai Dai che sto boss del cazzo More Dai che No eh Impazzisco Impazzisco Guarda se succede quello che penso Vale lo so sa quanti da limitare il boss È morto È morto È morto Oh è morto Vai nell'oltretomba Vai nella cazzo di oltretomba Non ti vuole nessuno Bosta il cazzo Poveretto Io me lo sogno Io me lo sogno stanotte Me lo sogno vale nessun sicuro Io non ci posso credere Abbiamo fatto la queen bee Abbiamo sclerato come dei pazzi E c'è stato un momento in cui è rimasto a 19 punti vita E non mi ha registrato Siccome noi siamo bravi Noi ci siamo levati tutte le armi post skeleton Eletron Ci siamo rimessi l'armatura indietro Per non farla in modo illecito Sei pronto Vale? Che vergogna Non può aver Dio santo Dio santo Eh no Questo è uno dei suoi ballettelle stronzi È vero io sto dietro Io sto dietro Io sto dietro Ah non subisce danno È vero Non subisce danno 10 secondi Porca miseria Arrivo Quanto cazzo è veloce Quanto cazzo è veloce Quanto cazzo è veloce Cosa cazzo ho schivato? No Ecco Ora noi ci vedete Più bravi del solito Eh Però Che cazzo parlo? Io Ma perché lo testi in giusto? No Porca miseria No Vale No 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 ti prego A chi no è No è No No Dai un per cento Dai 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 Devi morire schifosa Non subisce danno Non subisce danno Lo faccio subire Lo faccio subire Al primo tentativo Ragazzi Al primo tentativo Al primo tentativo Ci siamo stati tutto il giorno Tutto Il Giorno Ah che bello Finalmente possiamo esplorare il dungeon Beh Grande Vale Cassa 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 Cosa c'è? Cosa c'è? Il piscio per te Ma porca miseria Sti cavolo di anelli rossi Se hai chiavi vieni da me Tu sei una chiave Madonna santa Il signore degli anelli Mi sembra Guarda quanta gente Ma guarda Guarda ma con la zirc potion Vabbè guarda il lato positivo Stiamo 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 farmando un sacco di soldi Guarda guarda Aki Guarda Aki Guarda per quanto non mi colpiscono Ah ecco Grande E' Eh eh Sono wine shot Morto Appena l'arrivato Ma io ci credo Cazzo E' normale Dai c'ho tre gold In chi non posso usare Ho qua Pistola No No Perché Perché questo mondo È invaso dagli anelli Angry Boss Angry Boss Battle Ma che cazzo fa Ma Akira Che problemi hai Cioè Si è permesso di tirare Una pozione puzzolente A Ember Come ti permetti Aspetta un attimo Ma Questa struttura C'è un oggetto per terra Con cui puoi interagire Cerca nella wiki Sandstorm core Ah ma è post plantera Ah ok Prendiamo il nostro Code breaker Lo piazziamo Ci mettiamo Il compito Il Sto cavolo Eh Che non so come si chiama Facciamo già gli Sì certo Gli exome Che come no Oddio Apollo Ah Gli altri 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 C'è anche C'è anche Il Thanatos C'è anche Il vermone Sono morto Mi ha distrutto La vita Già di base Io odio Il Deerclops Non sono Ce la faccio Per loro Non oso Immaginare Come sia Nell'inferno Sei pronto Vale Gli altri